croccantini ho fame ragazzi se anche voi piacciono i gatti cosa aspettate a prendere il mio libro mondo strano lo potete trovare in tutti i libri lì ma soprattutto su amazon link sotto in descrizione e ciao a tutti ragazzi sono cat enzo sono cat enzo che bello sono diventato un gatto cioè posso fare le cose da gatto ho sempre sognato per un gatto posso saltare posso salire sopra i mobili e rompere vasi cadi cadi si che bello sono un gatto ho sempre sognato di essere un gatto e mi oh no scappa scappa dalla nonna e passa e passa aiuto salta qui aiuto insomma avete capito bene devo sconfiggere la nonna quindi lo scopo di questo video sarà fare impazzire la nonnina ma soprattutto esplorare la casa perché possiamo fare tutto possiamo far cadere i vassi possiamo mangiarci pesci no davvero possiamo mangiarci pesci cosa stiamo dicendo ciao nemo ciao dori scusate vi ho scambiati allora posso salire no è bellissima sta cosa cioè posso salire sono proprio un gatto sono un gattone sono un miau 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 ok allora ragazzi ma posso andare proprio dentro posso andarci uh vedo questi ehi nonnina vedi che ti mangio il pesciolino rosso che c'è qua prendilo prendi sto coso ragazzi allora dobbiamo dare da mangiare pesci li dobbiamo attirare a noi dai scendi ok pesciolini pesciolini che dove siete pesciolini pesciolini eccoti pronto in agguato e zacchete prendilo prendilo dai che lo prendo è qui oh ragazzi sto dando troppo la mangiare ai pesci venite oh bene voglio il pesce rossa perché io sono un gatto e me lo mangio prendilo perché non lo prendi vieni qua no adesso entro adesso non mi interessa perché sto andando in fondo preso il pesce si nonnina guarda ma nonnina si vede le cose dei gatti oh è proprio una nonnina però guarda qua adesso me lo mangio guardami oh oh guardami ah adesso c'ho il tuo pesciolino rosso e sai cosa ti faccio guarda ti faccio così vai adesso vado sul divano ok mi prende il pesciolino rosso e te lo sbatte in faccia ma signora nonna ma ma è no vabbè eh lasciamo perdere vai e adesso io non so che cosa faccio siccome sono un gatto no devo combinare le cose perciò io faccio così ah tra l'altro c'ho pure un orologio che mi dice l'attività da fare curiosità vai al secondo piano della casa danziamo balliamo ok allora il canale della danza ce l'ho petto io il canale della danza prendi qua allora questo telecomando è enorme signore eh accenditi che bello canale 1 andiamo avanti qual è il canale della danza 1 ma che è sto gatto yeah sulle mani io sono un vito sono un bel gatto dove è finito il telecomando no il divano si risucchiata il telecomando ora ti gatto tutto ora ti gatto posso farlo si brutto divano brutto divano dov'è la nonna vai vai qui no povero pesciolino ma dimmi una cosa pesciolino ma se io posso fare canale che ho colpito che ho colpito ho colpito qualcosa prendi sto coso vai cammina gatto ah c'è il canestro lì perfetto prendilo facciamo canestro 3 2 1 ma per non mangiarti ti facciamo 3 2 1 eh che schifo però ma dai michael jordan devo fare faccio subito salgo qua sopra non ci vuole niente mi appiccico no ragazzi mi devo appiccicare però cado così cado prendilo prendilo canestro si vai sono un micio mio perfetto nonnina che fa non ti arrabbi ma io posso saltarla addosso allora facciamo così voglio far cadere quel vaso d'accordo vai cammina gatto cammina saltiamo dai che mi arrampico va di qua dai che ci sono quasi ok sono sopra hai visto il porcellino non mi guardare così ragazzi mi sta guardando malissimo la nonna scusate la nonna scusami nonna cosa dici se io prendo questo e te lo faccio cadere vai porcellino eh quanti soldi oh no non mi toccare guarda ma ci sarà un modo per chillare la nonna ce la devo fare allora escogitiamo un piano per chillare la nonna posso andare in cucina e prendere un cuto un coltello ok non che la nonna ovviamente non si fa però io sono un gatto io posso i gatti hanno eh ora puliscimi la lettiera niente non mi puoi fare niente io sono qua sopra guardate che cosa ho combinato giù proprio lo schifo no 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 scappa scappa miau 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 sei lenta come mia nonna giusto lei è mia nonna miau miau scappa 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 capito qua sotto ok devo risalire sopra miau no il miau miau non ce la faccio non riesco a salire ce la farò a vincere dai appenditi ragazzi mi sono appeso ce l'ho fatta sono salvo vittoria ok però devo scusitare quindi andiamo di qua uh c'è un palloncino che bello che sei palloncino fatti sotto ho tirato pure le unghie ma è bellissimo fatti sotto eh non dici niente ragazzi controlli il suo vaso forse è il vaso più bello che hai in casa forse gliel'ha regalato il nonno per l'anniversario sono pronto è il momento di spiccare il volo 3 2 1 salta aia porca miseria cosa ho fatto che ci faccio qua sopra ora capisco come si sentono i gatti quando si trovano in posto in cui non si dovrebbero trovare come faccio a trovarmi sopra una lampada ho colpito una cosa che non dovevo colpire scusate mi avvicino ok ma c'è un pallone là sopra ragazzi devo prendere il pallone non so come fare però ce la faccio così posso giocare con la palla salta ci sono ah ma c'è ma c'è una foto di un gatto ok siamo sopra mamma mia io sono un gatto fantastico e pedro 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 ho beccato il pallone da palla canestro ma se facessi scoppiare tipo tutti i palloncini 3 1 vai fuori 1 allora questa è una sfida praticamente ci sono un sacco di palloncini io devo salire qua sopra piano ma che è un platform è diventato super mario 60 gatto uno dice super mario 64 invece super mario 60 gatto ok che bello quel tappeto io teoricamente potrei graffiare giusto tanto non è mia la cosa qui ora io salto qui un po' troppo un po' troppo recupero subito cosa ho fatto dove sono che cos'è quello ma è un pesce che ci fa un pesce là sopra scusatemi un attimo signor gatto qual è la missione moll lover hita 10 talpe in 45 secondi aspetta c'è il gioco della talpa li vedo è là ok ma intanto c'è quel pesce e io lo prendo che ci fa sto pesce qui signor pesce allora ragazzi devo portarlo via 3 2 1 verso l'acquario che salto io sono veramente un gatto proprio ma è casa di spongebob in realtà questa è di squid ma scusa dov'è la casa di spongebob un ragazzo incontro una ragazza nanananananananananananana entra dentro ho salvato il pesce guardi guardi che ti graffio guardi che ti graffio eh preparati eh ma non ti preoccupare a te perché alla fine di questo video io cercherò di killarti voglio vedere che cosa succede ragazzi attenti i vostri gatti intanto andiamo ad acchiappare la talpa oh che bello questo gioco ok colpisci 10 talpe in 10 secondi 3 2 1 via ah 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 vai vai giù giù ma che bravo che bravo che sono io sono veramente garfield voglio le lasagne ora datemi le lasagne 26 secondi 27 25 non so quanto è tal peso ma ragazzi ormai 10 lo superate perché io sono un vero gatto vai vai prese l'ultima dai ragazzi ma quanto ne ho fatte ue 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 attenzione ho avuto lo scasso nel cesto bellissimo oh ma ci sono pure i topi ma io sti giochini li voglio per il mio stesso gatto guardate adesso mi elecco le zampe pulisco i capelli divento Elvis Presley con i capelli belli prossimo ragazzi cosa ho da fare qua un altro gioco da fare ma sono già di livello ma questo sono io siamo lo scemo sto gatto vabbè oh vieni qua tu preso ok praticamente devo colpire questi e rimetterli al loro posto perfetto questo l'ho messo a posto prossimo aiuto mi sono fatto malissimo dove cerchi di andare topolino vieni qua mamma mia ma sono velocissimo vieni oh ahia che boccia mi sto dando 40.000 colpi ho fatto cadere tutto ma ti topi ti rubo le ciabatte vieni qua dammi le ciabatte nonna nonna dammi le ciabatte nonna nonna ascoltami ti graffio il divano mentre la nonna non mi dà ascolto grand no ho perso ne ho chiappato solo una mannaggia sta nonna allora continuiamo perché io devo andare al piano di sopra perché una di queste missioni è vai al secondo piano della casa ci vada al secondo piano della casa mi fai tanta pena perciò ti porto qui che bello i gatti che sono io sono proprio un garfield ma c'è una scala posso sedere sopra la scala vediamo ragazzi non posso sedere sopra la scala mannaggia però posso graffiarla che cos'è quello è il tetto toiti tu toiti sali sopra sono proprio un gatto missione completata è raggiunto al secondo piano della casa giustamente al secondo piano che cosa ci potrebbe mai essere il pianoforte non voglio commentare ma andiamo sul pianoforte sono la musica di ludwig van bathoven allora la ci dice facce cavolo facce de cavolo scusate non è colpa mia se c'è scritto facce de cavolo allora devo mettermi qua posso più graffi del piano bellissimo allora f a c c d pronti f a d d ok aspetta f ah no e poi diesis ah no ok f a c d fatto ma che canzone è scusa che canzone è questa mi dice di fare sta canzone non me la fa f a c d e di diesis vabbè si eh senti non va bene sto pianoforte lo suona a modo mio va bene sali sono sopra il pianoforte sono gatto toven dov'è pa 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 po po sono un gatto toven pa 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 po 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 troppo bravo si allora allora io ancora i miei piani malvagi non li ho fatti perché oh sono venuti qua sali ok super a sta staccionata io voglio andare in cucina perché voglio prendere a fuoco casa va bene fammi prendere a fuoco casa basta ho capito scendo di qua anzi come un vero gatto uuuuh tanto so vivo ho nove vite adesso ne ho otto andiamo in cucina allora eh nonna ti preparo la cena va bene allora andiamo di qua ah che bello oggi faremo un gatto di patate un gatto di patate giusto c'è c'è nel più piano malefico un gatto di patate posso fare così posso salire sopra ok posso fare questo accendere il fuoco aspetta devo girare giusto giusto la manopola non si accende come faccio girare la manopola ah ho girato la manopola perfetto ho acceso un fuoco ora accendiamo l'altro vai gira 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 oh mamma mia ma veramente sto accendendo i veri fornelli gira tutto gira pure fatto accendiamo i fornelli ho acceso tutti i fornelli guardate sono tutti accesi prendiamo pure l'altro no vabbè ah e basta quanti colpi do e ora cerchiamo qualche felipatezza da fare ma mia nonna ha solo cibi per gatti cioè la mia padrona che cosa sa oh c'è qualcosa qua apriti allora facciamo ma posso affettarlo ragazzi io ce le unghie che ti pare no ho bisogno di un coltello va bene cerchiamo un coltello immediatamente ragazzi voglio fare e dire il segno allora mettiamoci qua ok devo fare questo devo prendere il bicchiere ah mannaggia non ce l'ho fatta allora ce la devo fare ah non ce la faccio tirare le patate mi rendete conto in alto vai vai proprio ragazzi sto cuocendo il cetriolo mi rendete conto questo è quello che ti meriti sei il mio cerebo nemico bruciati bruciamolo proprio va a fuoco tutto facciamo andare a fuoco casa tanto tanto per così è tutto suono divertimento questo nonna non senti putta di bruciato quella si vede gatti ma oh oh mannaggia i cetrioli ma adesso io voglio saltare sulla cucina ah che bello ragazzi io ovviamente ai gatti non piace fare il bagno a me piace quindi vai giù oh ah che bello si sta riempiendo ma posso allagare casa dimmi che posso allagare casa puliamo i piatti ragazzi avete mai visto un gatto lavare piatti oh ma certo che mia nonna è proprio fissata con i gatti piatto gatto dimmi che posso riempirlo oh vedete questa brocca ora la prendiamo vabbè ma sono un gatto fortissimo ragazzi lo sono riempiuto davvero non sono scherzato mi sa che riesco da allagare casa e non la becca di questo ancora quella che guarda i gatti salta prendilo ti prego e spacca tutto non c'è riempito proprio niente vabbè spacchiamo nonna tutto bene si non ha sentito nulla possiamo continuare ah visto là c'è un forno microonde salta va nel forno microonde ah ah ok vediamo cosa posso fare qui ma posso fare il gatto di patate al forno aspetta che mi è venuta l'idea vai vai salta cetriolo è quello che ti meriti anzi no è il momento di prendere la patata si la patata ah mettitele in bocca che devo metterla nel forno eh apriti aprendi sta cosa mettila dentro richiudila metti 40.000 gradi fare nette e vai si sta cuocendo la patata allora o esplode o esplode sono veramente curioso nonna facciamo esplodere tutto se vi prego io sono un gatto malefico ora la patata è troppo cotta ok vediamo se riesco a farci canestro con questa patata am ragazzi è troppo bella ah fai canestro eh tu non mi avrai mai più sali 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 eh ok uh qua c'è gnammi per i gatti come si fa ad aprire sto coso oh l'ho aperto ah si ti prego si ah sono tutti i miei si am 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 ah 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 nonna questo è quello che ti meriti tutto 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 mi prendo mi devo appendere mi sono ragazzi mi devo appendere là sopra vai ok 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 no niente niente devo distruggere tutti i piatti non mi interessa ah ok cosa c'è qua dentro non mi dire che posso aprire scatole apriti non si apre che schifo non si apre ma vabbè ah questo è quello che ragazzi sto distruggendo tutta la cucina me ne rendete conto e la nonna nemmeno se ne accorge ragazzi la nonna non se ne sta accorgendo sono buttato tutto che fa quella io pure lo so forse è arrivato il momento di fare qualcosa di brutto ma se io tipo girassi in giro posso mettere la boh no vabbè ma io sono un gatto provocativissimo allora quello che voglio fare è questo prende il coltello no non l'ho beccato ma dovrebbe tagliare il suo coltello non taglia niente basta adesso divento un falegname allora oggi divento chef garfield l'ho tagliato l'ho tagliato non ci credo posso cucinare no ragazzi un video di cucina io da gatto lo posso fare dai salta salta così si fa mamma ragazzi non date mai un coltello ad un gatto potrebbe finire molto male vabbè basta prendiamo il cetriolo ok accendi sti fornelli e brucia tutto guarda un cetriolo bruciato è questo quello che ti meriti basta ho capito devo fare quello che non volevo fare bello questo pipita di vino non è vino è acqua butta bello pure questo picchiere no oh la nonna si è svegliata brava nonnina oh no 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 non mi picchiare ti lancio questo piatto vai col frisbee no scappa scappa guardate come mi segue vai 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 devo trovare un coltello da qualche parte il mio pelo malvagio deve funzionare un coltello prendilo provaci cos'ho fatto nonna no nonna cos'ho fatto no mi sono preso un infarto mi sono fatto paurissima vai vai salta per favore cioè posso fare pure il toast ti metti il toast io volevo le lasagne beh no no hai capito male come si fanno i toast oh infatti dicevo io vai in fondo facciamo questi toast saranno buonissimi alla faccia tua oh sono pronti posso mangiare allora se volete un video di cucina che io sono diventato gatto chiedetemelo pure sotto nei commenti va bene ci sarà un modo per tagliare il pane ragazzi sto pane è duro come il cemento non si taglia eh nonna io ti volevo preparare sì sono qui per lei per prepararle la cena ma non funziona granché vabbè sapete che faccio vado a mangiare le mie crocchezze di pollo via ciao oh ah posso mangiare am am nonna niente faccio io è come se mi vesti da sola in questo momento voglio un po' di acqua tu non me la vuoi dare e io me la do da sola tiè mettine ancora grazie io volevo un po' di acqua ragazzi l'ho bevuta tutta questa sì che bella è vita comunque ci sono un sacco di cose da fare ma sapete io faccio un'ultima cosa adesso il mio piano malvagio le salto addosso aia porca miseria mi sono fatto malissimo ah 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 oh è così ho vinto io il mega gatto sì sì sono meglio di roki di roki balgatto sì nonna ci è piacere no povera nonna dai ti prego ovviamente stiamo scherzando nonna la nonna è una grande attrice e infatti tra poco si risveglierà vero nonna mostraci che stai solo dormendo yeah ho sconfitto mia nonna sì nonna risvegliati oh ti sei risvegliata scappa 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 ma da pieno di sopra è un po' vecchietta quindi non mi può prendere via verso la libertà me ne esco me ne esco dal soffitto fuori di casa oh ragazzi io direi che questo video di oggi lo posso anche termine qua è stato parecchio divertente mi so proprio divertito e nulla iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto c'è un sacco di pollice in su poi la vostra resiste è tutto noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao Grazie.